Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane. Due parole sull'azienda Farno Quale è il ruolo. Camp2Camp, alcuni di voi magari la conoscono perché è una delle aziende, diciamo, leader nel mondo Odoo. Abbiamo un dipartimento di business solution, che è quello che si occupa di Odoo, un dipartimento di infrastructure, che si occupa di cloud, server, network, sicurezza. Un dipartimento di geospaziale. Una cosa importante della nostra azienda è che ha l'open source nel suo DNA. Quindi in tutti i nostri tre dipartimenti il nostro approccio allo sviluppo e all'implementazione di tecnologie è sempre open source first. Abbiamo circa 160 dipendenti, l'headquarter è in Lausanna, ma abbiamo uffici sparsi un po' per l'Europa. Il nostro motto è Excellence Together, quindi lavorare come un team per raggiungere i nostri obiettivi. Brevemente, missione e storia dello CA. È stata creata nel 2013 per promuovere e supportare soluzioni open source di eccellenza, quindi per mantenere alto lo spirito e la bandiera del software libero nell'ecosistema Odoo. Vi ho riportato in realtà poi quello che è il motto vero e proprio che potete trovare sul sito. E il tutto può essere, diciamo, mi viene in inglese, somariled, condensato, scusate. È difficile passare sempre da una lingua all'altra. We make Odoo miter together, che secondo me veramente condensa per l'appunto il nostro obiettivo, cioè cercare di rendere Odoo e il suo ecosistema più potente insieme. Allora, parlando di animali, vediamo qual è la fauna che troviamo in questo ecosistema. Ho cercato, diciamo, di trovare degli animali che potessero simboleggiare in qualche modo il comportamento degli attori di questo ecosistema. Abbiamo il board, che penso possa essere rappresentato da una formica, perché sostanzialmente ci sono nove persone che per un largo lasso di tempo si fanno carico di tante attività che francamente alcune volte vorremmo evitare in tutti i modi possibili. E quindi cerchiamo sempre di promuovere le attività e supportare per quanto possibile i membri. Disclaimer, cercherò di dire membri meno possibili durante questo talk. Poi abbiamo i delegati, i delegate members, che sono delle farfalle. Le ho chiamate farfalle semplicemente perché sostanzialmente come la farfalla vivono molto poco, perché, come vedremo, sono responsabili sostanzialmente di eleggere altri delegati e di eleggere il board una volta all'anno. Poi abbiamo i contributors, che ho identificato come dei bombo. Il bombo è un tipo di app particolare, quindi può fare tanto lavoro, fa anche il miele, però ad esempio non sopravvive all'inverno, così come tanti contributor che poi magari spariscono nell'etere. Poi abbiamo i members, per l'appunto, che ho pensato di rappresentare come un'ape, perché lavorano in gruppo, si aiutano a vicenda, producono il miele, che poi è sostanzialmente anche il fee della membership e che ci aiuta a mantenere in piedi tutta la community. Poi abbiamo i PSI, che sarebbero i Project Steering Committee, sostanzialmente sono dei gruppi di lavoro che devono, dovrebbero aiutare, facilitare la manutenzione di tutti i repository che abbiamo e anche dei nostri strumenti. Li ho identificati come degli orsi semplicemente perché in alcuni casi è difficile trovarli e a volte se arrivano sono un po' burberi perché si aspettano che chiunque arriva nel nostro ecosistema abbia fatto i compiti prima a casa e quindi sappia esattamente come muoversi e quindi grugniscono e dicono, fai così, fai così, ma non hai capito niente, cose di questo tipo. Poi abbiamo gli sponsor che ho identificato come un bombato dal naso peloso perché sono rarissimi, per cui è difficile vederne tanti insieme. E poi ho introdotto un altro tipo di soggetto che è il taker, diciamo, quello che prende solo, che diciamo è fuori dal nostro ecosistema, ma ogni tanto passa di lì, prende delle cose, le usa per il suo business, magari lo ribrandizza per i fatti suoi senza attribuire niente alla nostra, diciamo, a chi l'ha fatto e l'ho identificato come la cicala, ricordando la favola della cicala e della formica la cicala che sta a guardare gli altri che lavorano. Sì, ok. Alcuni numeri. Come ho detto, l'Ossiei vive da circa dieci anni, ne fanno parte l'incirca 170 membri, scusate, 8 membri, paganti. Ci sono una cinquantina di delegati, che come ho detto prima sono quelli che poi eleggono il board. Abbiamo all'incirca 110 project steering committee, che in realtà non, diciamo, possono avere a che fare con uno o più repository. Abbiamo all'incirca 230 repository, fra tool e moduli per odù. e abbiamo la bellezza di circa 5500 moduli. Vi sfido a trovare un'altra quantità di moduli come questa. Ovviamente faccio riferimento a moduli che vanno dalla versione 8 alla 16. Probabilmente se andate anche su Launchpad trovate qualcosa per la 6 e per la 7. Una nota, se non trovate dei moduli OCA sull'App Store di O2, è semplicemente perché l'App Store di O2 è un po', come dire, farraginoso per registrare i repository, di andare lì a manina ogni singolo repository, ogni singolo branch lo devi registrare. E se poi c'è un failure, se un modulo non viene registrato, perché manca una dipendenza, perché il copyright non va bene, perché la licenza è sbagliata, non ti arriva nessuna notifica e quindi ciao. Quindi ogni tanto vado lì e me li passo tutti e vedo se posso fare qualcosa. Poi ci sono migliaia di contributori su GitHub, che se avete bazzicato GitHub ne avete forse avuto contezza. Prossimo. Ok. Vorrei un attimo parlarvi di quali sono i vantaggi di un approccio open source nel nostro lavoro, nel nostro ecosistema. Ovviamente questi sono vantaggi che si possono applicare in generale a qualunque community open source, non solo quella dell'OCA. Allora, innanzitutto abbiamo una condivisione di costi e sforzi. Questo per tutta una serie di motivi. Come ho detto prima, ci sono tantissimi moduli di qualità, c'è una riduzione dei costi di manutenzione, anche per quanto riguarda la migrazione. Ad esempio, io posso introdurre un modulo nella 14 e poi trovarmelo migrato nella 16. Vi faccio un esempio pratico. Io con la mia azienda ho sviluppato Shopfloor, che è un'applicazione lato WMS, quindi gestione del magazzino. È stato un lavoro enorme. Abbiamo fatto, penso, circa 200 moduli solo per l'OCA, più tutti quelli custom. E abbiamo deciso, dall'inizio, questa cosa va nell'OCA, perché non vogliamo farci carico di tutta la manutenzione negli anni a venire. E tant'è che adesso c'è un'azienda amica della community che sta migrando alla 16. Si possono definire dei design, delle convenzioni, quindi anche poi, una volta che ci si è addentrati e si è capito come funziona, diciamo, muoversi o sviluppare nuove funzionalità avviene sempre in una maniera più o meno uguale, o comunque con una convenzione ben specifica. C'è della documentazione? Sì, poca, ma c'è! Però anche solo il fatto di avere tutti quei moduli lì, per tutti, liberi da poter consultare, almeno per noi tecnici, è una grande fonte di ispirazione anche per capire come si evolve il sistema. Facilita anche l'onboarding di nuovi collaboratori, perché è chiaro che se ho tutta questa mole di esempi, di best practices che io posso girare al mio nuovo collaboratore, beh, mi facilita tanto il processo di onboarding. Allo stesso tempo mi facilita anche un cambio di fornitore, perché nel momento in cui io lavoro con un fornitore che lavora appunto con la community, voglio cambiare fornitore, vado ad un altro fornitore della community che avrà, bene o male, è già pratico di questi workflow, di questi processi, di questa collaborazione, quindi sarà più facile poter lavorare con queste persone. Anche il recruiting è facilitato, perché come ormai tutti sapete, GitHub è uno degli strumenti più importanti oggigiorno per trovare profili tecnici, quindi cercate Simone Orsi o Do, e trovate tutto quello che io ho fatto per la community, e sapete che probabilmente io ho una certa esperienza nel campo. Formazione gratis, più o meno, perché comunque richiede del tempo, richiede dell'applicazione, però ecco, ci consente, come dicevo prima, di avere una base enorme di esempi per formare il nostro personale. Fra gli altri vantaggi abbiamo la maturazione di un'esperienza, sia a livello di sviluppatori, che di funzionali, che dell'intera azienda. La possibilità di definire anche degli standard. Più volte mi è capitato appunto di aprire delle discussioni con amici della community e andare a definire insieme determinati standard per gestire determinati flussi. Opportunità di lavoro e lead. Perché? Perché, come ho detto prima, GitHub ti offre, in questo caso, ti offre un palcoscenico per mettere in mostra quello che sai fare, quello che sai fare tu personalmente, ma anche la tua azienda. E da questo possono anche derivare delle opportunità di lavoro, sia per i singoli che per le aziende. Inoltre, e questa è una delle cose che preferisco, sono aggiornamenti costanti. Io passo un sacco di tempo a guardarmi purri, questo oppure comunque commenti, piuttosto che scambi su email list, per capire qual è l'evoluzione, stare aggiornato con l'evoluzione di io tu stesso. E perché no anche della fama, nel senso che se uno diventa un partecipante attivo di questo tipo di community, viene comunque riconosciuto come una persona, diciamo, affidabile, esperta. Si vengono a creare parecchie sinergie, per ovvi motivi si vengono a creare delle comunità di interesse, come può essere quella dell'Uditalia, che è anche una community locale. Si possono creare e trovare nuovi collaboratori, quindi lavorare insieme, aziende diverse che lavorano insieme su progetti che sono magari troppo grossi per una singola. Trovare nuovi dipendenti, come ho detto prima, nuovi amici, me ne sono fatti un sacco in questi anni, e nuovi punti di vista, che non fa mai male. Ovviamente, con tutti questi vantaggi, comunque vengono anche delle sfide. Diciamo che, adesso vi do il mio punto di vista da lavoratori di Camp2Camp, per noi, come dicevo prima, è community first, quindi quando vogliamo lavorare su un progetto e sviluppare una nuova feature, tipicamente andiamo a vedere cosa c'è nello CA, e cerchiamo di capire come può essere migliorato, adattato, e poi incastrarsi nel tutto il resto del lavoro. Ovviamente questo richiede del tempo, devi stare lì ad analizzare, eccetera, eccetera. Mentre in un approccio cloud source, spada tratta, vai giù, fai tutto quello che ti serve, esattamente come te l'ha chiesto il cliente, ed è finita lì. Però ogni volta, devi prendere quel pezzo di coci e rielaborarlo, eccetera, eccetera. Rispetto di regole e convenzioni, che non abbiamo scelto noi, e non abbiamo definito noi. Ovviamente anche si è portati a, forzati a utilizzare dei tool specifici, come può essere GitHub, come può essere Precomit, e altri strumenti che utilizziamo all'interno della community. Bisogna anche perdere del tempo, perdere tra virgolette, a costruire le azioni, per poter magari, appunto, avere un lavoro più fluido all'interno della community. Ci può essere sicuramente una sovrapposizione di sforzi, perché arrivo io, che ho fatto la feature per, non so, l'e-commerce, tal dei tali, arriva un altro, ah ma l'ho fatto anch'io, ah sì, vediamo cosa abbiamo fatto insieme, e quindi ci vuole del tempo, per capire cosa prendere di qui di là, eccetera, eccetera. E bisogna anche arrivare, magari anche dei compromessi. E ovviamente si possono creare anche delle interferenze, perché arriva il terzo, che è fatto più o meno lo stesso lavoro, ah no, questa cosa non va bene, no, questa va fatta così, insomma, ci vuole un po' di pazienza. E quindi si girano anche delle discussioni, che possono essere comunque costruttive, per quanto è possibile, si cerca sempre di farle costruttive, ma magari possono essere spiacevoli per qualcuno. E ovviamente, vista questa mole di informazione, ci sono sicuramente le difficoltà nel capire dove sta cosa, dove posso trovare questo, dove posso trovare quello, a chi chiedo. E ovviamente c'è un grosso problema, la grossa sfida è la comunicazione, perché breaking news, la lingua ufficiale è l'inglese, ma la maggior parte delle persone che stanno all'interno della community, non è di madrelingua inglese, quindi è naturale che si possono creare delle incomprensioni. Ovviamente si possono generare anche degli svantaggi, uno svantaggio competitivo, in primis, perché se noi teniamo il lavoro che facciamo chiuso nel nostro cassetto, è solo nostro, e io non farò beneficiare i miei possibili competitor di quello che ho fatto. Però è sempre l'altro risvolto della medaglia, come dicevo prima, quando abbiamo sviluppato Shopfloor, abbiamo deciso, che per noi era un vantaggio competitivo, ma abbiamo deciso comunque di rilasciarlo, per tutta un'altra serie di motivi. C'è la necessità di tenersi, di aggiornare il codice, magari correggere un baco che è stato introdotto da uno che ha fatto una modifica da un'altra parte, che era una dipendenza del mio modulo, ah, ma ha rotto tutto quando ho fatto l'aggiornamento. Bisogna tenere da conto anche questo quando si lavora con un sistema così grande a livello di software. Ci sono poi degli esempi di features, tra virgolette, rubate da DOO, fatte proprie da Odu e magari portate nell'enterprise. È successo in parte anche con il WMS, ma sta nell'ordine naturale delle cose. E possono anche arrivare delle offerte di lavoro per i nostri collaboratori, ovviamente, perché nel momento in cui, come dicevo prima, abbiamo quel palcoscenico, un'altra azienda, un competitor, potrebbe dire, ah, questa risorsa è valida, me la prendo io. E poi può anche succedere che il proprio lavoro possa essere riutilizzato senza riconoscimento. E questo è endemico nell'open source, quindi, ovviamente, ci sta. E ci dobbiamo stare tutti quanti, dobbiamo stare al gioco. Vorrei spendere alcune parole sui pain points, diciamo, le cose più... che generano, nella maggior parte dei casi, delle barriere nell'adozione di uno spirito open source, in particolare nella collaborazione all'interno dello CA. come citavo prima, la difficoltà di trovare il tal modulo, il tal repository, la tal funzionalità, come posso... magari, per arrivare a una certa feature, devo mettere insieme tanti moduli e trovare, diciamo, la soluzione di questo puzzle non è sempre semplice. Anzi, quasi mai. E poi c'è tutto, diciamo, una lunga discussione che potremmo fare sulle pull request, che per chi non è un tecnico non è altro che una proposta di aggiunta o modifica di feature, di funzionalità. Tipicamente quello che avviene è che apro una pull request su GitHub e là c'è qualcuno, ma potrei avere una review, qualcuno che mi dica ho fatto bene, ho fatto male. Please. Quindi, oppure arrivano le review e mi chiedono modifiche, ma sono questioni di stile, a me non piaci, lo faccio in questo modo, ed è per questo che sono state definite delle convenzioni, anche per cercare di limitare il più possibile questo tipo di problemi. oppure, eh, ora non ho tempo, scusa, ripasso fra un mese. Oppure, non ho assolutamente capito di che diavolo stai parlando, spiegati meglio, problema di comunicazione. Oppure, il build è fallito, quindi, diciamo, sempre per i non addetti al lavoro, quando apriamo una pull request noi abbiamo dei test automatici che dovrebbero più o meno certificare che non abbiamo rotto niente, ovviamente dipende da quanti e quali e la qualità dei test che abbiamo scritto. Quindi, spesso capita che il build è rosso e magari non è colpa nostra, magari la nostra modifica ha causato un problema in un altro modo, allora anche lì devi spendere del tempo per capire cos'è, cosa non è e cercare di risolverlo. Oppure, appunto, sono uno newbie, come si dice in gergo tecnico, sono appena arrivato e non so dove andare, prega, aiutatemi. E poi sono arrivato su quell'epository e qualcuno mi ha anche trattato male. E succede, succede perché perché siamo tutti umani, perché c'è chi spende più tempo e chi no, problemi di comunicazione, eccetera. Quindi diciamo che ci vuole tanta, tanta pazienza, ma vi posso garantire che nel lungo termine paga, una volta che siamo entrati nel meccanismo e nei vari workflow della community. Quindi, vorrei, come dire, invitarvi se volete far parte di questa community e se avete già più o meno capito quali possono essere i vantaggi del collaborare in questa community, vorrei, diciamo, proporvi un approccio che banalmente è questo. Cercate di essere educati e ricordatevi che dall'altra parte ci sono delle persone che se non vi rispondono è perché come voi stanno lavorando o semplicemente sono andati a prendere i figli o sono stati in malattia come me. Ad esempio, ho un mese che sono quasi in malattia prima per un tamponamento, poi per un'influenza. Per un mese non ho risposto a nessuno sulla community su Github, il che mi dispiace tanto ma non posso farci niente, quindi, cioè, anche gli altri hanno una vita. Essere umili, quindi, questo si impara, secondo me, si sposa completamente il concetto dell'open source perché in fondo per noi sviluppatori ma anche per un funzionale esporre il proprio codice al pubblico è un po' come aprirsi, E bisogna accettare che qualcuno venga lì e ti dica questa forse non l'hai fatta bene, guarda, prova a far così, prova a far cosà. È chiaro che se ti viene detto in un certo modo è meglio, ma bisogna essere consapevoli che c'è questa cosa e quindi bisogna arrivare con un po' di humiltà e non come questo funziona così, punto e basta, non c'è nessuna modifica da fare. Bisogna cercare di essere d'aiuto per quanto possibile. Essere d'aiuto come? Ci sono vari modi, ad esempio se vi aspettate che qualcuno faccia la review alla vostra pull request prima di chiedere a qualcuno fatevi un giro sulle altre pull request e spendete un po' del vostro tempo a fare le review a qualcun altro. Questo aiuta tantissimo perché poi pian piano anche gli altri contributor si renderanno conto che voi non siete quello che passa di lì e pretende solo il review ma avete effettivamente aiutato qualcun altro e quindi sono più incentivati anche a dare una mano a voi. E poi il prossimo step è essere più attivi quindi appunto contributi che possono essere di qualunque tipo e questo ci tengo tanto a sottolinearlo non si tratta solo di codice potete anche magari semplicemente riportare un bug che sì magari nel caso non sia veramente grave però ecco anche quello è un contributo e anche quello serve a farvi entrare nel meccanismo oppure ad esempio con documentazione ok? Avete visto un modulo avete visto l'avete provato avete visto che comunque la documentazione è scarsa potrete contribuire con un po' di documentazione questo aiuta tantissimo oppure anche con domande ad esempio sulla mia list o su un repository come faccio a fare questo oppure stavo pensando devo gestire questo tipo di flussi stavo pensando di fare così cosa? Che ne pensate? Cosa mi suggerite? Anche questo genera uno scambio che può far imparare voi e può far imparare qualcun altro e ovviamente potete anche successivamente assumere un ruolo più attivo quindi passando come ho fatto io da prima da essere membro di un scusate oppure diventare delegato e poi membro del board ovviamente o meglio per chi non lo sapesse abbiamo un code of conduct un codice di comportamento che è disponibile sul sito vi lascio il link poi in fondo e come ho accennato prima bisogna cercare di comprendere che anche gli altri a volte non hanno tempo ok quindi la pazienza prima pazienza e comprensione prima di tutto vi lascio con un po' di collegamenti risorse più o meno tutte puntano al nostro sito che è solo in inglese per cui dovrete farci l'abitudine però penso che anche sul sito di Udo Italia ci siano dei riferimenti in italiano io ho finito e vi lascio con le domande un'ultima cosa se volete farmi domande adesso oppure se volete parlare con me personalmente avete avuto un problema con la community oppure non sapete le domande di qui sopra per qualunque cosa mi trovate qua in giro e sono lieto di passare un po' di tempo con voi a chiacchierare grazie Simone allora vediamo un po' se ci sono domande è importante poi questo tipo di talk perché ogni singolo contributo seppur piccolo aiuta tutti soprattutto quando ci sono le PR sì ma poi vabbè è un po' come quando decidi di andare in palestra ci devi andare un paio di volte e poi ti sblocchi è ovvio che come dicevo prima l'accoglienza fa tanto quindi ad esempio mi è capitato più volte di vedere appunto una persona persa o che ha fatto magari una cosa che non andava fatta ma anche senza saperlo e fai i tuoi compiti prima di succede perché succede siamo in tanti in quei casi non è perché sono parte del board ma semplicemente come essere umano mi viene voglia di andare lì e scrivere guarda così cosa ha se vuoi potresti fare così cosa ha eccetera quindi cerco diciamo di smorzare un po' i toni però questa è una cosa che possono fare tutti invito tutti a fare nel momento in cui vedete una conversazione che magari prende una brutta piega potete tranquillamente inserirvi e dire la vostra più democratica della nostra community non c'è per cui diciamo ognuno è invitato a dare il proprio contributo anche semplicemente per indirizzare sui primi passi non è detto che io sia bravo a scrivere codici magari mi occupo che ne so io non faccio più niente però è utile indirizzare da quei piccoli consigli che possono portare poi ad avere contributi domanda per contribuire ai moduli OCA ci sono dei requisiti particolari oppure tutto via GitHub beh le prendo come due domande in cui requisiti particolari devi sapere usare Git quantomeno pre commit insomma diciamo i tool che sono descritti c'è anche una guida su come contribuire con vari pointer su su quali strumenti utilizzare e come è tutto via GitHub sì è tutto via GitHub a meno che non sia un tuo codice proprietario ovviamente in caso dove ti pare tra l'altro sul sito di O2 Italia ci sono diversi slide di interventi fatti nel corso degli anni qualcuno ha fatto anche Alex non so Comba dove praticamente ci sono anche diciamo come dire delle indicazioni utili per muovere i primi passi di materiale se ne trova tanto ma comunque non esitate a chiedere esistono i tutorial da seguire per partecipare a Doca soprattutto per i newbie sì ci sono delle guide sul nostro sito sono quelle che ho elencato nell'ultima slide è cliccabile sì 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 se volete partecipare in quanto diciamo avere la membership andate sul sito sull'e-commerce potete comprare la membership e sono 50 euro l'anno se invece avete un'azienda potete richiedere diciamo fare un ordine solo per n dipendenti scrivendo a Rebecca che è la nostra amatissima segretaria ok l'ultima domanda la leggo perché è interessante questa qui ci vuole devi rispondere con diplomazia però vai secondo te il grande lavoro della community solleva in qualche modo o dove si anda al migliorare il prodotto sul fronte funzionale dato che vi sono alcune lagune storiche non curate da casa madre ma no secondo me sono due aspetti diversi nel senso che chiaramente Odoo non può fare tutto fra l'altro io in tutto questo talk sull'open source che è ripeto nel mio DNA fin dall'inizio eccetera eccetera non disdegno assolutamente il fatto che ci sia una versione enterprise e non sono uno di quelli che appunto vanno contro ah perché hanno fatto l'enterprise perché ormai pensano solo l'enterprise per quanto me lo vedo io non è assolutamente vero e lo dimostra il fatto che il cordio è non è l'ottanta vabbè il settanta per cento ok dove sareste tutti voi se non fosse così diciamo che la parola d'ordine in questo caso è sinergia sì e sinergia fino a un certo punto nel senso che da noi c'è tanta sinergia Odoo stiamo ancora sperando che mette il link alla nostra piano piano ha un concetto di community un po' diverso bisogna lavorare ai fianchi e ne abbiamo parlato più volte con Fabian anche quest'anno l'ultimo anno all'O2 Experience ma è duro va bene licenza con la pubblicare in OCA sono tutti AGPL AGPL o LGPL ovviamente se volete fare un modulo che può essere compatibile anche con l'Enterprise dovrete andare sull'LGPL va bene io mi fermerei qui comunque le abbiamo raccolte tutte le domande poi le pubblicheremo perché dobbiamo stare nei tempi io ti ringrazio per il tuo prezioso contributo saluta gli amici sparsi per il resto di Europa di OCA farò farò ciao a tutti grazie da parte nostra ciao Odoo Italia a fianco delle imprese italiane a fianco delle imprese a fianco delle imprese Grazie a tutti.